Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento con le cattedre di Sofia dal titolo Educare oggi e domani è una passione che si rinnova. Colgo l'occasione per dare appunto da parte dell'Istituto Universitario Sofia il benvenuto a tutti voi e anche ai nostri ospiti che dopo il professor Callebaut ci presenterà. Chiamo subito il preside dell'Istituto Universitario Sofia Piero Coda a porgere a tutti voi e ai nostri ospiti i suoi saluti. Il preside obbedisce e viene a dare i saluti, un benvenuto soprattutto ai nostri graditissimi ospiti di questa sera. Questa sera è una tavola rotonda direi plurale, sono più di una persona che ci dona il suo intervento, il suo contributo e quindi ascolteremo numerose e importanti e preziose parole. Allora io sono rapidissimo, voglio solo dire una parola di grande benvenuto e di grande gratitudine per chi abbiamo qui questa sera, che mi permetto di presentare io per l'antica consuetudine che c'è con ciascuno di loro. Monsignor Angelo Vincenzo Zani, arcivescovo, è il segretario, per chi non lo sapesse, della Congregazione per l'Educazione cattolica e quindi rappresenta per noi, per Sofia, rappresenta la Santa Sede, rappresenta il Papa, rappresenta l'istituzione che ha eretto, che segue, che sostiene con competenza, simpatia e passione il cammino di Sofia. Ma oltre questo e più di questo, Monsignor Zani, Don Vincenzo, come noi continuiamo a chiamarlo, con amicizia, è stato, direi, per usare una metafora, la provvidenziale levatrice di Sofia. Sapete cos'è la levatrice? Dico per i non italiani, no? Adesso non so se si usa ancora, ma per far nascere un bambino ci vuole qualcuno che sia pratico del fare nascere dal grembo della madre il bimbo, la creatura, la nuova creatura. Ebbene, lui allora era sottosegretario, quando Sofia è stata concepita, per continuare questo paragone, e lui l'ha seguita fin al momento in cui è nata e il 9 dicembre del 2007 lui stesso personalmente ha consegnato nelle mani di Chiara Lubic, erano gli ultimi mesi della sua esistenza qui su questa terra, consegnò, io ero presente, e anche Giudith, forse nessun altro di qui, eravamo presenti a questo momento semplice e solenne, quando lui lesse il decreto e ci fu questa stretta di mano, Chiara non parlò, disse solo un grazie, non parlava più, mi guardò e mi disse, ho capito che dovevo dire qualcosa a lui a nome di Chiara. Quindi provvidenziale, levatrice, che continua, poi è diventato segretario, è diventato vescovo, e quindi anche il piccolo cammino di Sofia è stato benedetto da questa presenza continua amica, e poi oltre questo ancora, mi permetto di dire, lui è oggi certamente uno dei collaboratori più apprezzati e più fidati di una persona a cui tutti noi vogliamo molto bene, che è Papa Francesco, in questo delicato e importante compito di aprire gli spazi alla cultura, all'educazione ed ispirazione cristiana nel mondo della scuola, dell'università, eccetera. E Papa Francesco, so che in Vaticano, per queste cose qui, dice sempre, su questo seguite Monsignor Zani, è una buona cosa, insomma, quando un Papa dice questo vuol dire che c'è una comunione profonda. Monsignor Guy Real Tivierge, anche qui una grande personalità che io direi, lo direi se posso permettermi, è oramai lo storico segretario della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche, storico non perché sia stagionato di anni, ma perché da ben quattordici anni ha questo ruolo, dopo averne assunti altre all'interno della Federazione, vuol dire la Federazione appunto di tutte le Università Cattoliche, una cosa unica nel panorama internazionale, cioè la Chiesa Cattolica ha questa enorme rete di università e appunto lui è, direi, da quattordici anni, dicevo, è il cuore, l'anima e anche la mente di questa realtà, perché coordina i luoghi di ricerca, è l'appassionato ambasciatore in tutto il mondo, infatti se tu vai in qualunque parte del mondo già lì è passato Monsignor Tivierge, o sta per passarci, ed è il grandissimo, capacissimo organizzatore di questa realtà. Non per nulla una delle ultime cose mi pare che ha ricevuto, lui è canadese di origine, ma sta a Parigi dove sede la segreteria della FIUC e ha ricevuto questa alta onorificenza da parte del Presidente della Repubblica Francese della Legion d'Onore, che insomma i francesi non è che danno proprio agli ecclesiastici così, vuol dire che la laicità mi diceva, eccolo là, ce l'ha là, e quindi anche lui è un amico di Sofia, è già stato qui un paio di volte addirittura e quindi ecco. Poi abbiamo il professor Italo Fiorin che ha la LUNSA di Roma, un'università con cui Sofia ha una collaborazione da anni e anche ha delle ambiziosi prospettive di impegno soprattutto nell'ambito educativo e della pedagogia, è docente di didattica e di pedagogia speciale, è presidente del corso di laurea della scuola di alta formazione, della scuola primaria e ha il suo attivo una lunga serie di lavori, di studi, di esperienze nel campo didattico e pedagogico, ma basti dire che è stato per lungo tempo responsabile all'interno del Ministero della pubblica istruzione della Repubblica italiana della sezione ispettiva, quindi di coloro che controllano, penso dal titolo che controllano, esatto, ecco questo per dire anche la sua grande, ma mi permetto di dire che tutti e tre con confidenza ecco, a parte questi grandi meriti e questi grandi lavoro che li vedono in primo piano sul terreno dell'educazione, sono anche tre grandi amici e sinceri amici con cui si collabora, anche noi siamo appassionati di questa passione che si rinnova, 50 anni del Concilio Vaticano II, del documento gravissimum educazionis, la dichiarazione sull'educazione, che notate questo, l'ultima cosa che dico, questo aggettivo, educazionis si capisce, dell'educazione, gravissimum, le parole vengono scelte anche perché danno il titolo al documento le prime parole, ma si scelgono queste parole, gravissimum, cioè vuol dire che la Chiesa Cattolica nel Concilio intende che l'impegno nell'educazione è gravissimum momentum, dice, cioè è di singolare importanza e significato per il futuro dell'umanità attraverso le nuove generazioni, questo gravissimum dice l'importanza di questo documento e di quello che tutti loro fanno in questo ambito nella prospettiva dell'educazione, dunque grazie di tutto cuore della vostra presenza. Voi sapete che ci sono compiti possibili e compiti impossibili, stasera io ho un compito impossibile, perché come moderare tre appassionati, forse mi faccio aiutare da voi, però io non ho paura di, non penso che vi addormenterete, noi abbiamo avuto un pomeriggio già con i dottorandi di Sofia, appassionante con loro, allora non sarà così vivo la cosa, sono in tre a essere vivi, allora vedremo come resisterete. Pensiamo fare più o meno, ma senza moderare troppo la passione, 20 minuti ciascuno, nella prima parte ci sarà anche un DVD, interromperemo a un certo momento, faremo un bel pezzo di musica e continueremo e dopo dialogo, credo che anche voi, sarà forse più difficile ancora moderare le vostre passioni. Ecco, io cedo la parola subito. Allora, visto l'amicizia con Papa Francesco, buonasera a tutti. Ringrazio davvero il Preside, ringrazio il Professor Benni e l'Istituto Universitario Sofia di questo invito e soprattutto di queste straordinarie iniziative che si fanno con l'Istituto Universitario che non ha soltanto il compito di offrire i corsi accademici in senso stretto, ma come in tutte le università del mondo, le università propongono anche iniziative culturali, perché sono un fuoco che deve irradiare la luce e il calore. Dunque, complimenti per questa iniziativa che mi sembra è nata subito, con l'inizio di Sofia, mi pare. Come già è stato detto, il tema Educare oggi e domani una passione che si rinnova è appunto un tema legato alle iniziative che abbiamo cominciato a proporre tre anni fa, quando 30 cardinali, che sono i responsabili del nostro dicastero, che ha una competenza sulle scuole e sulle università di tutto il mondo, hanno accettato la nostra proposta, che peraltro veniva da Papa Benedetto, di non lasciare passare la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della gravissimum educazionis nel silenzio. E quindi abbiamo capito che dovevamo rimboccarci le maniche e cominciare a riflettere sul tema dell'educazione con l'occasione del cinquantesimo anniversario del gravissimum momentum, ribadire i principi della gravissimum educazionis, perché il momento di oggi forse è ancora più grave di quello di 50 anni fa. Per cui questi principi li dobbiamo recuperare, li dobbiamo allargare, estendere, aggiornare per poter rispondere alle sfide di oggi. Già è stato detto che dopo di me parleranno appunto il Monsignore Ghirealti-Vierge e il Professor Fiorin. I nostri interventi appunto sono tre visioni diverse, ma che sono tutte concentrate sullo stesso tema. A me il compito di introdurre con questa domanda quale educazione, quale università, dopo 50 anni della gravissimum educazionis, del concilio e nel contesto in cui viviamo oggi. Mi sembra che abbia un grande significato riflettere su questi temi nella cittadella di Loppiano, che è una città scuola, la città della fraternità, la città della vita, quindi mi sembra molto importante e soprattutto perché anche Loppiano sta facendo il cinquantesimo, dunque della nascita. Mi pare che questa coincidenza non sia casuale. E non posso non ricordare che nel 1961 Chiara, quindi prima del concilio, aveva creato a Grottaferrata la scuola internazionale di formazione, che poi ha trasferito qui con la nascita di questa cittadella. Quindi il carisma di Chiara, la scuola internazionale di formazione, il concilio, la nascita della cittadella, c'è una coincidenza provvidenziale. Quindi io sedo questa sera ancora di più di sottolineare questa coincidenza, anche perché non posso dimenticare che nel 1970-71 io sono stato condotto qui dal rettore del mio seminario per andare a vedere questa realtà nuova che è nata nella Chiesa e che è Loppiano. E quindi subito ho visto che qui c'era un modo diverso di affrontare il tema della formazione, il tema della sapienza e non posso dimenticare il tema di Chiara fatto all'Oppiano il 17 febbraio 1971 su Gesù Maestro, un tema ampiamente citato e che è un condensato di sapienza e anche di metodologia che probabilmente potrebbe essere anche ripreso e riapprofondito. Allora appunto con questa breve premessa io vorrei richiamare tre passaggi. Innanzitutto ricordare il significato che il concilio dà di educazione. Poi accennare a qualche nuova sfida che abbiamo davanti a noi oggi, per tutti quelli che operano nel campo dell'educazione e terzo come impegnarsi in modo nuovo nel campo dell'educazione. Il concilio. Il tema dell'educazione nel concilio non lo troviamo soltanto nella dichiarazione Gravissimum Educazionis ma anche in altri documenti, Gaudium Espes, legato alla cultura e anche la dignitatis umani, i diritti umani, quindi è abbastanza diffuso questo tema ma certamente nella dichiarazione Gravissimum Educazionis abbiamo la definizione dell'educazione e come già dicevo anche ai dottorandi oggi pomeriggio i padri conciliari si erano ritrovati con l'idea di approvare un documento sulle scuole cattoliche. Poi invece è cambiato tutto perché soprattutto i vescovi che venivano dall'Africa, dai paesi che uscivano appunto in processo di decolonizzazione, che apriva le nuove democrazie con tanti conflitti, con tante tensioni, tutti vedevano che l'educazione era lo strumento principale attraverso il quale si poteva costruire una società nuova, una democrazia nuova e poi si vede quanto è stato difficile. Quindi 17 bozze sono state fatte, rifatte e cambiate per arrivare alla dichiarazione che tutti conosciamo, è una dichiarazione molto stringata, ristretta, con una serie di principi e i vescovi durante i padri conciliari hanno scritto una lettera al Papa, una petizione e hanno chiesto di continuare dopo il Concilio a riflettere su questo tema con una commissione permanente. E nella riforma della curia romana nel 1967 Papa Paolo VI ha deciso di cambiare il nome del nostro di Castero, che era congregazione per i seminari e di chiamarlo congregazione per l'educazione cattolica. Quindi che non ci fosse una commissione così qualsiasi a trattare questo tema, ma per la sua importanza fosse affidato a un di Castero, non a un Pontificio Consiglio, ma a un di Castero che ha un peso maggiore per le disposizioni, per le indicazioni che dà alle chiese particolari. Ecco, in questo documento noi ci troviamo appunto negli anni Sessanta, siamo nella fase dopo la guerra, quindi nei 15 anni dopo la guerra, in un momento ancora in cui si sente molto forte il bisogno di ricostruire un tessuto che si era veramente spaccato, una frattura insanabile e è un momento particolare in cui anche negli organismi internazionali come l'ONU, l'UNESCO, il Consiglio d'Europa, questi organismi internazionali, non si badava alle differenze di appartenenza, ma si andavano a cercare i punti di riferimento comuni per aiutarsi insieme a costruire un tessuto nuovo di società. Quindi risente la dichiarazione dell'educazione di quel momento particolare e abbiamo due affermazioni in questo documento. Innanzitutto non si parla subito di educazione cattolica, si parla di educazione. Questo è un passaggio molto importante perché è il clima di tutto il Concilio, il Concilio che si vuole mettere in dialogo con il mondo. E quindi prima di tutto è l'educazione. E cosa dice il numero uno di questo documento? Tutti gli uomini di qualunque razza, condizione ed età, in forza della loro dignità di persona, hanno il diritto inalienabile ad una educazione che risponda alla loro vocazione. Alla loro vocazione. E sia conforme al loro temperamento, alle differenze di sesso, di cultura, di tradizioni di ciascun paese. Prima parte della definizione. Seconda parte. Ma insieme hanno diritto ad un'educazione che sia aperta alla fraterna convivenza con gli altri popoli al fine di favorire la vera unità e la pace sulla terra. Ecco le due finalità dell'educazione. Aiutare una persona ad essere se stessa nella sua identità specifica, non omologazione, ma esaltare l'originalità di ogni persona e dall'altra parte aiutare ognuno a diventare protagonista di una fraternità, costruttori dunque di un contesto di solidarietà, di unità, di pace. Quindi questa è la definizione fondamentale. Qui penso che ci troviamo tutti a casa nostra perché soprattutto anche il carisma dell'unità ci spinge in questa direzione. Poi arriva la definizione di educazione cattolica che non sta prima ma si aggiunge, è un supplemento d'anima che l'educazione cattolica porta al concetto fondamentale di educazione. E si dice tutti i cristiani hanno diritto all'educazione cristiana, essa non comporta solo la maturità propria dell'umana persona, ma tende soprattutto a far sì che i battezzati, ecco lo scopo, prendano sempre maggiore coscienza del dono che hanno ricevuto. Siano preparati a vivere la propria vita secondo l'uomo nuovo, nella giustizia e nella verità. Raggiungano la statura dell'uomo nuovo che è Cristo e promuovano la conformazione cristiana del mondo e quindi promuovano il bene comune della società. Ecco le due definizioni, io poi vi risparmio tanti altri particolari ma mi sembrava importante sottolineare questo, e poi si potrebbe citare anche quello che dice la Gaudium et Spes sulla cultura, perché l'educazione è molto legata alla cultura, dove si fa vera educazione si promuove cultura, la cultura della fraternità, la cultura della pace, la cultura dell'incontro, la cultura appunto dell'unità, della giustizia eccetera eccetera. Ecco dunque quale educazione, quale università. E lì diciamo che dopo il concilio il nostro di Castero ha avuto il compito di preparare tanti documenti e 25 anni fa è stato preparato un documento che poi è diventato costituzione apostolica a firma di Giovanni Paolo II sulle università cattoliche del mondo che ha tutto il respiro del concilio finalizzato alle istituzioni accademiche. E qui ci sono due definizioni. Primo cosa è l'università e poi cosa è l'università cattolica. Quindi l'università è una comunità accademica. È interessante che prima di tutto si sottolinea il concetto di comunità. È una comunità accademica che in modo rigoroso, critico, contribuisce alla tutela e allo sviluppo della dignità della persona, il concetto di educazione che si diceva prima, e dell'eredità culturale mediante la ricerca, l'insegnamento e i diversi servizi offerti alle comunità locali, nazionali, internazionali. Quindi una comunità, la centralità della persona, lo studio, l'insegnamento, la ricerca, ma non per sé, ma per mettersi al servizio, al servizio locale, nazionale e internazionale. Universitas, universus. E dentro questo concetto di università, l'università cattolica ha alcune caratteristiche, deve possedere la caratteristica di un'ispirazione cristiana da parte dei singoli, ma non solo, da parte della comunità stessa accademica. Cioè un'ispirazione alla visione dell'uomo, del mondo, quindi l'antropologia, una visione appunto della giustizia, di principi fondamentali, un servizio, un'incessante riflessione e un servizio istituzionale al popolo di Dio e al mondo. Questo è ciò che dicono i documenti ed è ciò che anche attraverso il nostro lavoro continuiamo a ripetere, a ribadire, quando appunto ci poniamo l'interrogativo qual è l'identità di una scuola, qual è l'identità di un'università, e andiamo a vedere questi documenti. Certamente però oggi abbiamo davanti delle nuove sfide, ce ne sarebbero tantissime le sfide da accennare, io ne cito semplicemente tre, tra le più grandi che abbiamo. Un primo fenomeno che caratterizza il nostro tempo e la cultura di oggi è appunto la crisi dei rapporti tra generazioni, la difficoltà di trasmettere le conoscenze, i saperi da una generazione all'altra. C'è una frattura. Come fa la prima generazione a comunicare alla seconda generazione ciò che è stato maturato nel tempo, la propria cultura? Dice McIntyre in un'opera intitolata Dopo la virtù è avvenuta una catastrofe, dice lui. una catastrofe che ha interrotto la trasmissione del sapere morale, cioè dei valori, del sapere morale e maggiormente ancora delle sue fondamenta. La difficoltà di trasmettere i valori, la tradizione, i saperi acquisiti pone due questioni. Il problema dell'autorità di chi trasmette e il problema della libertà di chi è destinatario. di questo sapere. Quindi qui abbiamo a che fare con due grandi questioni. La grande sfida di questa interruzione di una relazione dove, come dice qualche esperto, il problema più grave non sta nelle giovani generazioni, ma negli adulti. La vera crisi sta negli adulti. per cui si definisce la società di oggi come società adolescentrica. Una società che non ha più la sua identità. L'adolescenza è segnata dall'incertezza, dalla ricerca, dalla ricerca della propria identità, eccetera. Ecco, in questa fase di trasmissione del sapere si avverte una grande incertezza, un grande disorientamento. quindi sulla base di quale autorità io adulto trasmetto agli altri ciò che ho appreso, ciò che ho imparato, ciò che ho maturato. E gli altri sono liberi di fronte a questo? Qual è il concetto di libertà che hanno le giovani generazioni nei confronti di quelle adulte e di tutto un sapere che è stato? Quindi siamo di fronte alla cosiddetta emergenza educativa, al disagio educativo che è crisi di proposta axiologica, un termine difficile per dire che è la crisi dei fondamenti, la crisi dei valori fondamentali da trasmettere. Prima grande questione. Seconda grande sfida è data dalla rivoluzione informatica che diciamo genera una cultura nuova e permea tutti i livelli ormai della vita. Qualcuno pensa che basterebbe qualche regola per l'uso di questi strumenti nuovi e poi tutto è fatto. E invece è evidente che siamo dinanzi a cambiamenti in cui produzioni sempre più sofisticate trasformano in modo profondo in modo logico e sequenziale due strumenti di fondo che l'uomo utilizza per costruire la propria identità e la propria idea di mondo e cioè vengono ridefinite le forme e le figure delle relazioni sociali e soprattutto vengono reimpostati i processi di costruzione mentale. C'è un altro approccio. E a questo proposito leggevo proprio nei giorni scorsi un volume che è stato pubblicato tradotto in italiano in queste settimane dal francese un volume di Edgar Morin che è uno dei più grandi esperti al mondo dei processi conoscitivi il titolo è insegnare a vivere quindi anche questo è un messaggio molto forte i saperi se non sono legati alla vita non dicono più niente quindi interessante questa cosa Chiara questo l'ha tanto sottolineato un sapere per la vita per vivere importantissimo ecco in questo volume scrive appunto Morin internet scatena una rivoluzione selvaggia delle condizioni di acquisizione dei saperi questo interessa l'economia le relazioni umane e l'educazione stessa in sostanza adesso non sto a leggere tutta la citazione ma cosa dice questo strumento dà delle potenzialità straordinarie quindi ben venga ci aiuta anche a risolvere tanti problemi ma dal punto di vista dell'educazione cambia completamente il sistema dell'educare e del formare cambia anche il ruolo dell'educatore dell'insegnante del professore perché non sta a lui insegnare tutte le cose ma ormai ognuno può andare a prendere queste cose attraverso gli strumenti qual è il ruolo dell'educatore di fronte a questo a questa rivoluzione il direttore d'orchestra colui che deve unire guidare correggere orientare criticare cioè aiutare dopo che ha dato un compito dopo che ha dato un obiettivo da raggiungere ognuno va a cercare dove vuole le citazioni i volumi le cose ma alla fine diceva lui manca purtroppo attraverso questi strumenti manca la presenza fisica carnale psichica attiva reattiva retroattiva dell'educatore è necessaria la presenza dell'educatore cioè è l'umanum dell'educatore che aiuta a orientare effettivamente diciamo le scelte che si ampliano sempre di più ma sempre di più c'è bisogno di qualcuno che guidi il concetto di direttore d'orchestra la terza e ultima sfida è la sfida che riguarda il tema interculturale nel mondo attuale esiste una grande pluralità di culture il processo di globalizzazione ha facilitato l'incontro e scontro e tensione tra le diverse culture sappiamo che non c'è una cultura in senso puro ma ormai tutte le culture sono mescolate quindi è più difficile costruire ed educare una identità dentro un mescolamento di culture è chiaro qui la soluzione è veramente la logica del dialogo educare attraverso un dialogo tra persone tra culture tra appartenenze ma attenzione che il dialogo non è mai una cosa superficiale deve sempre andare in profondità non dimentichiamo Paul Ricoeur che diceva che l'identità il dialogo si fa quando ognuno entra nella profondità del proprio essere della propria identità e quando arriva in fondo scorza scorzare apre come la scorza della propria identità e anche l'altro apre la propria si devono mettere a contatto le realtà vive non alla superficie ma in profondità e quindi un grande impegno per l'educazione quindi terzo e ultimo aspetto cosa dobbiamo fare di fronte a questi scenari nuovi caratterizzati anche da queste due minuti da queste nuove diciamo sfide che abbiamo sarebbero tante cose da dire occorre veramente un supplemento di carisma occorrono i carismi i doni speciali siamo nel bicentenario di Don Bosco quindi non possiamo dimenticare cosa hanno voluto dire i grandi carismi educativi nella Chiesa parlo di Don Bosco ma di tanti altri fondatori non possiamo dimenticare quello che ha detto Chiara io vedo una grande sintonia tra Don Bosco e Chiara quando Don Bosco dice che l'educazione è un affare di cuore e parla di amorevolezza in fondo dice quello che Chiara ci ha sempre detto educare davvero è una passione che nasce dall'interno dal cuore allora credo che certamente occorre cercare strategie nuove metodi nuovi dinamiche eccetera eccetera ma prima di tutto l'educatore oggi e sempre di più in futuro non solo nelle scuole materno e elementari ma anche a livello di università deve curare molto i propri atteggiamenti interiori deve partire non solo dalla sua formazione intellettuale ma soprattutto dall'atteggiamento e a questo proposito mi sembra molto importante ricordare diciamo che se guardiamo al Vangelo impariamo da Gesù maestro da quella frase che ha detto Gesù dice l'Evangelista Marco di Gesù che misereor super turban si commosse perché vedeva che erano come pecore senza pastore quindi la prima cosa che deve chiedersi un un insegnante un educatore un ricercatore un docente universitario è l'atteggiamento innanzitutto spirituale se c'è questa pietas se c'è questa commozione interiore di fronte al bisogno di verità che c'è oggi quindi prima di tutto è il mettersi a servizio dell'altro chi educa si pone al servizio con amore prima verifica atteggiamento spirituale interiore ma poi un insegnante deve verificare anche la propria sensibilità culturale perché non basta avere un po' di commozione spirituale bisogna avere gli strumenti bisogna oggi avere una preparazione direi più agguerrita di prima più qualificata più profonda e quindi soprattutto oggi quando parlavamo prima del direttore d'orchestra occorre che il docente l'insegnante sappia rispondere al bisogno di unità bisogno di sintesi che ognuno ha dentro di sé che ognuno di noi possiamo andare a prendere tante cose ma chi ci dà il principio unitivo chi ci insegna a mettere insieme le cose l'educazione la formazione l'università la scuola devono andare molto in questa direzione e in un momento in cui viviamo una grande frammentazione di saperi grande frammentazione appunto bombardamento di mass media pervasività di proposte eccetera quali criteri quali principi ecco dunque una grande preparazione culturale culturale vuol dire una preparazione dell'insegnante non solo nella sua piccola disciplina ma una preparazione estesa aperta multidisciplinare pluridisciplinare e terzo l'insegnante oggi deve sempre di più verificare le proprie competenze specifiche metodologiche di una scienza che ha le sue caratteristiche e ogni scienza ha le sue caratteristiche ecco dunque quello che mi sembra importante vorrei concludere con una citazione di Papa Francesco Giovanni Paolo II ha visitato tantissime università cattoliche nel mondo Papa Benedetto ha scritto parecchio sulle università Papa Francesco di specifico sull'università ha fatto un discorso sull'educazione tante cose ma sull'università ha fatto un discorso all'università di Cagliari e lì credo c'è qui un docente di Cagliari penso che si ricorderà bene lì ha detto qual è lo scopo l'obiettivo la vocazione di una università non ha parlato di università cattolica un'università Cagliari non è un'università cattolica è partito dal brano dei discepoli di Emmaus questi discepoli disorientati che andavano cercavano discutevano si raccontavano l'esperienza vissuta le donne che avevano raccontato qualcosa ma è vero non è vero la ricerca della verità la confusione un po' di fumo diciamo arriva a questo personaggio e li aiuta a mettere in ordine questa loro esperienza e dopo quel momento sappiamo che tornano dagli altri dunque tre cose dice il Papa Francesco l'università come luogo del discernimento occorre leggere la realtà ma anche vivere questa realtà senza paure senza fughe senza catastrofismi la situazione è difficile non aver paura buttiamoci e cerchiamo di leggere quindi criteri etici spirituali eccetera eccetera seconda cosa l'università come luogo in cui si elabora la cultura della prossimità un sapere che ti mette in contatto con l'altro non che ti riempie la testa soltanto le tue categorie mentali ma una cultura un sapere che ti mette di più al servizio dell'altro dunque l'università che è un luogo privilegiato in cui si promuove si insegna si vive questa cultura del dialogo e apre un confronto costruttivo con gli altri e terzo l'università come luogo di formazione alla solidarietà questo non è un valore soltanto cristiano ma appartiene al vocabolario umano non c'è futuro dice per nessun paese per nessuna società per il nostro mondo se non sapremo essere più solidali solidarietà quindi come modo di fare la storia come ambito vitale in cui i conflitti e le tensioni anche gli opposti raggiungono un'armonia che genera vita l'università ha questo compito importante di formare giovani ad assumere le proprie responsabilità nei diversi campi della vita pubblica per contribuire a risolvere i problemi e i conflitti diffondendo la cultura dell'incontro grazie grazie applausi 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 inviterei Sandro Cripa a produrre il suo primo pezzo musicale che ha come titolo En Scient Air e che sarebbe un brano di ispirazione celtica un pezzo originale di mano suo in applausi l'o Grazie a tutti 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 Grazie Buon pomeriggio a tutti Allora Monsignor Zanici ha parlato dell'educazione, della scuola, dell'università Mi hanno chiesto di parlarvi dei studenti delle università Parlare dei studenti, allora vi racconterò un poco i risultati di questa inchiesta internazionale mondiale che noi, la FIUC, abbiamo realizzata attraverso la rete delle cattoliche del mondo Quale, io direi che c'era una domanda finalmente, però un tipo di requisito quasi, ho sentito in tutto il mondo, ho sentito la stessa domanda, i stessi commentari da parte dei rettori, da parte dei professori Da più di 15 anni che mi dicono la stessa cosa che sarebbe quella Noi non riconosciamo più i nostri studenti, sono talmente cambiati, sono diversi e più complicato ancora non sappiamo che cosa pensano e non sappiamo che cosa vogliano esattamente delle università Allora mi hanno chiesto di presentarvi alcuni dei risultati, perché guarda sono tutti ripresi in questo libro, ne parlerò alla fine Allora naturalmente avrei bisogno di qualche ora per poter naturalmente presentare una cosa un poco decente Però sono costretto ad essere un poco più breve, allora ho scelto alcuni capitoli che possono essere più interessanti per voi Il primo sarà gli studenti nelle nostre università e il loro atteggiamento generale verso sudette Questo sarà il primo punto Il secondo è il comportamento dei studenti e il loro rapporto con gli obiettivi delle università Sarà molto interessante perché Monsignor Zanni ci ha marcato molto bene le grandi finalità dell'università e della cattolica Però vedremo come i studenti vivono questo E il terzo punto sono le idee fondamentali in base alle quali i nostri studenti danno senso alla loro vita Perché per noi abbiamo chiamato precisamente le culture dei giovani nelle università cattoliche Che cosa sentirei per cultura? Per noi la cultura non è il colore dei capelli e poi non è la parte dorsale che lascia vedere un po' il blue jeans Questo ci interessava poco Ciò che ci interessa come cultura è il come loro costruiscono il senso della loro vita Come loro possono elaborare un progetto di vita, una speranza per domani Sono le domande che sono alla base di tutta quella inchiesta Io non vi posso parlare naturalmente di tutta la parte metodologica Vi dico due parole Il questionario è stato tradotto in 17 lingue E ci sono 17.000 studenti che hanno risposto al questionario E noi abbiamo rigettato 50 questionarii unicamente Allora questo dice molto della serietà del lavoro che è stato realizzato Vediamo adesso i studenti nelle nostre università e il loro atteggiamento verso sudette Per me pagina 17 Vedete come le cose vanno rapido Allora io vi faccio un po' di riassunto Un po' di riassunto di quella diciamo prima parte I studenti nelle nostre università e il loro atteggiamento verso sudette In linea di massima possiamo riconoscere che il livello di soddisfazione mostrato dagli studenti Riguardo alle loro università e ai loro professori è alto Ci fa piacere sentire questo Però sentirete altre cose più in là Questo significa che anche se ci sono differenze tra le diverse regioni del mondo Naturalmente in generale nelle nostre università cattolica sempre Sembra esserci un clima favorevole al perseguimento dei loro obiettivi Non entro a dare i numeri E poi non sono venuto a dare i numeri qui Altro punto Tuttavia quando si pongono domande dettagliate riguardo a diversi aspetti Iniziano a comparire delle differenze Ad esempio c'è un dislevello tra il livello generale di soddisfazione E la valutazione delle diverse caratteristiche riguardanti ai professori Entriamo in certe tensioni Anche in generale questi ultimi vengono valutati Questi ultimi i professori Vengono valutati relativamente bene Per quanto riguarda le caratteristiche Che appartengono alla dimensione accademica Dico accademica Ma meno bene quando quelle relative agli aspetti sociali Umani e relazionali del loro insegnamento Entriamo nelle sfumature E poi un altro punto che mi sembra interessante Questo dovrebbe spingerci a pensare Se le nostre università Devono essere intese Secondo i criteri In base ai quali sono state create Dalla Chiesa Come stabilito Dalla Costituzione Ex Corde Ecclesiae Non due numeri Però vi voglio dare Un poco qui Alla pagina 13 C'è qualcosa Cosa da cui vorrei parlare E' interessante Alcuni dettagli Ad esempio Sulla soddisfazione Degli studenti Riguardo alla loro università Come loro vedono La loro università Allora Su una scala di 1 a 6 Vedrete che il punto più basso è 1 E il più alto è 6 Riguardando ai professori Dicono 4.4 Ancora abbastanza bene Sul clima generale Dicono 4.5 Sulla possibilità Per altre attività Ancora lì 4.5 Sulle classi 4.3 Sulla possibilità Di perseguire I propri interessi personali Anche 4.4 Però C'è sempre un però Sulla possibilità Di crescita religiosa E' la cosa più bassa 3.8 Ci fa riflettere Allora passiamo All'altro tema Che io ho scelto Il comportamento Degli studenti E il loro rapporto Con gli obiettivi Delle università E' interessante E' interessante questa cosa Chi o cosa Ha influenzato I cambiamenti Dei studenti Nella maggior parte Dei settori I compagni Sembrano essere Le persone Con Un'influenza Maggiore Sui cambiamenti Esperiti Dagli studenti I compagni I professori E i tutor Sono le persone Più menzionate In secondo luogo Un'eccezione E' rappresentata Dalle credenze Religiose E dall'impegno Dei quali Le attività pastorali Dell'università Sono maggiormente Responsabili I capellani Delle università Tuttavia Non hanno Influito Quasi mai Non siamo noi A parlare Sono i studenti Che ci parlano Sono i studenti Che ci parlano E poi Bisogna anche dire Che Sofia Non ha ancora Partecipato Non fa parte di 17.000 I corsi I corsi Hanno Influenzato Quasi solamente Lo sviluppo Della fiducia Degli studenti Nelle loro Capacità E L'aumento Della loro Comprensione Dei problemi Del mondo In tutti I settori Un gran Numero Di studenti Sostiene Di non Essere Stato Influenzato Da nessuno Il numero Aumenta Fin Quasi A 40% Quando Si parla Di cambiamenti Nelle credenze Religiose E Nell'impegno Gli studenti Dell'Europa Occidentale E orientale E dall'America Centrale E del Sud Tendono di più A dire Di non essere Stati influenzati Da nessuno E' interessante Misurare un poco La misura In cui Le esperienze Dei studenti Nelle loro Università Hanno Contribuito A Cambiamenti In diverse Aree Secondo I studenti La loro Esperienza All'università Avrebbe Contribuito Molto Un poco Di meno Depende A cambiamenti Ad esempio I loro I loro Obiettivi Nella vita 64% Riconoscono Che Sono stati Influenzati La fiducia Nelle loro Capacità 64% Pure La scelta Degli studi 60% Il loro Rapporto Con gli altri 59% La conoscenza Dei problemi Sociali 51% La conoscenza Dei problemi Del mondo 48% Il loro Impegno Con i soggetti Svantaggiati Socialmente 46% Le loro Credenze Religiose 28% E l'impegno Religioso 15% Questo Naturalmente Va Senza Commenti Passiamo Adesso Al Terzo Punto Le idee Fundamentali In base Alle quali I nostri studenti Danno senso Alle loro azioni Qui Ho Più o meno Cinque Campi Diversi Quali Obiettivi Hanno Senso Hanno senso Per le loro vite Interessante Questo Vedete Quali obiettivi Hanno senso Per le loro vite L'analisi Fattoriale Ha Identificato Tre Diverse Dimensioni Relative Agli obiettivi A cui Aspirano I giovani Di oggi Una Dimensione Più Convenzionale E De Contestualizzata Come Per l'avere Denaro Ad esempio Essere Felici O Vivere Comodamente Questo È un Primo Gruppo Una Segunda Più Trascendentale Come Per Il Sentirsi Più Vicini A Dio E Soddisfare Le Aspettative Della Famiglia E Un Terzo Gruppo Una Terza Legata A Un Laborioso Sviluppo Temporale Della Persona Come Nel Caso Del Raggiungere I miei Obiettivi Grazie Ai miei Sforzi E Ai miei Meriti Fare Qualcosa Di Importante È Interessante Perché Il Fattore Numero Uno Cioè La Dimensione Più Convenzionale Sarebbe Diciamo La Prevale 39% Sui Studenti Il Fattore Trascendentale 29% E Maggiormente In Africa Minimo In Asia Orientale E In Europa E Poi Il Fattore Numero Tre Lo Sviluppo Temporale Prevale Nel 34% Degli Studenti Maggiore In Africa America Latina E Medio Oriente Adesso Vediamo Un Poco La Posizione Dei Studenti Nelle Questioni Politiche E Sociali Una Cosa Interessantissima Qual È La Posizione Dei Studenti Nelle Questioni Politiche E Sociali Quasi La Metà Considera Che La Libertà Sia Più Importante Dall' L'Uguaglianza Mentre L'altra Metà Pensa Il Contrario L'88% Ritiene Che La Democrazia Sia La Migliore Forma Di Governo Ma Il 27% Pensa Che Il Fatto Che Il Governo Sia Onodemocratico Sia Totalmente Indifferente Il 90% Pensa Che Esista Una Un grande Un grande Divario Per Governare Per Governare Questo Può Essere un Poco Sorprendente Però E' Così E' Così Io Spessissimo Dico Che Io Personalmente Mi Piace Di Essere Un Democrata Moderato Se Vogliamo Avanzare E' Importante Il 53% E' D'accordo Sul Fatto Che Complessivamente La Gente Oggi Vive Meglio Di Prima Siamo D'accordo Penso L'82 E' D'accordo Sul Fatto Che Il Divario Tra I Ricchi E I Poveri E' Aumentato Questo Depende Dove Depende Dove Allora Le Pratiche E I Sentimenti Religiosi Pratiche E Sentimenti Religiosi La Domanda Era Ti Consideri Una Persona Religiosa 61% Si Considera Religioso Più Donne 65% Che Uomini 55% Dicono Di Essere Religiosi Di Più Dicono Così In Africa 87% E In Medio Oriente 76% Meno Dicono Di Essere Religiosi In Europa Occidentale 43% E In Asia Orientale 29% La Domanda Era Pratichi La Tua 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 Religione Osservando I Riti E Servizi Religiosi Prescritti 56% Pratica La Sua Religione 56% Praticano Di Più In Africa In Africa In Africa 85% In Asia Sud Oriente 82% In Medio Oriente 74% In Europa Orientale 71% E in Asia E in Asia Meridionale 67% Praticano Molto di Meno In Sud America 47% In Europa Occidentale Soprattutto 53% E in Asia Orientale 43% Una Domanda Interessante Quella Come Loro Guardano Al futuro Della Loro Vita Come Guardano Il suo Futuro Con Ottimismo 71% Una Bella Cosa Almeno 71% E Con Incertezza 26% Ma Quanto Peso Ha per Loro Guardare Al Futuro Un'altra Cosa Per Molti Sembrerebbe Non Così Tanto Il 44% Dice Che I suoi Amici Preferiscono Vivere Il Presente Il Che Definisce Loro Stessi Solo Il 17% Parla Del Futuro Come Un Aspetto Identificante Adesso Vediamo Un Poco Come Quali Sarebbero I Loro Progetti Principali Per I Prossimi 15 Anni Verso Il Futuro Allora Ci sono Quelli Più Scelti E Quelli Meno Scelti Quelli Più Scelti Sono Ottenere Un Buon Lavoro 62% Formare Una Famiglia 45% Unicamente 45% Conseguire Una Laurea Specialistica 41% E Guadagnare Molti Soldi 30% Però I Progetti Meno Scelti Interessante Perché Siamo Sempre Nel Contesto Delle Università Cattoliche Non lo Possiamo Dimenticare Allora Quelli Meno Scelti Lavorare Per Una Società Più Giusta 8% Partecipare A Movimenti Sociali 5% Partecipare A Gruppi Religiosi 3% Però Ascoltate Bene Partecipare Alla Politica 2% Allora Una Delle Conclusioni Sarebbe Creare Altre Sofia In Altri Paesi Applausi 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 C'è ancora Ronto Per il Tempo O No Ho Detto Tu Cioè Poi Una Conclusione Una frase Conclusiva Sì Una frase Guarda Io Avevo Raccolto Un sacco Di Domande Che si Possono Fare Naturalmente Dopo Questo Studio Però Io Lascerò A Monsignor Coda Naturalmente Il Testo E Abbiamo Anche Uno Strumento Diciamo Instrumentum Laboris Per Aiutare Alle Università A Paralungare Lo Studio Dando Alcune Piste Di Riflessione Io Credo Questo Molto Importante Io Penso La mia Riflessione Guarda Io potrei Farne Alcune Però Mi Dicono Una Allora Ne Faccio Una Io Penso E' Una Delle Mie Convenzioni Più Profonde Quando Noi Come Università Cattoliche Quando Abbiamo Conferito Dei Diplomi Abbiamo Fatto Unicamente La Metà Del Camino Unicamente La Metà Del Camino L'altra Metà E' Precisamente La Formazione Globale Autentica Dei Nostri Studenti Formarli Precisamente Alla Responsabilità All'impegno Sociale In tutti Questi Campi Però Il Diploma Non E' Il Tutto Dell'Università Cattolica Grazie Grazie Io direi Cerchiamo Di Responsabilmente Continuare A Gestire Il Nostro Tempo Io passerei Subito La Parola Al Professor Fiorin Perché E' Un Terzo Complemento Molto Interessante Poi Andiamo Al Dialogo Bene Buonasera Si sente? Eh Bene Monsignor Zanni Ha introdotto Fornendoci Uno scenario Molto Ampio E Delle Coordinate Culturali Importanti E poi Monsignor Tiverge Ci ha Dato Il Punto Di Vista Dei Giovani Ha Fatto Entrare In Quest' Aula Quelli Che Sono Forse I Protagonisti Veri Di Tutta Questa Nostra Diflessione Mio Contributo È Un po' Complementario Guarderò Un po' Queste Cose Dal Punto Di Vista Diciamo Dei Sistemi Scolastici Di Quello Che Sta Succedendo Anche A livello Internazionale Ma Che Tocca E Ci Riguarda Molto Anche In Questi Giorni Per Quello Che Sappiamo Non Non Molto Lontano Da Qua Penso Non So Quanto Distante Sia Barbiana Da Qui Insomma Non Moltissimo Ecco Don Milani Nella Sua Lettera Ai Giudici Quando Doveva Difendersi Dall'accusa Che Di Vilipendio Allo Stato E Che So Io Scrive Questa Sua Lettera Di Difesa E Tra Le Tante Cose Che Dice Parla Dell'educazione E Dice L'educazione Siede Tra Il Passato E Il Futuro E Il Compito Dell'insegnante È Quello Di Condurre I Ragazzi Tra Il Passato E Futuro Come Sul Filo Di Un Rasoio Il Passato E Futuro Sono Due Categorie Che Sono Molto Importanti Per Quel Che Riguarda La Missione Di Un Sistema Fondamentali Sono Legati A Queste Due Dimensioni Del Tempo Rispetto Al Passato I Sistemi Scolastici Hanno Un Compito Che Viene Sintetizzato Dalla Parola Tradizione Consegna Ogni Epoca E Ogni Momento Della Storia Ha Questa Necessità Che Cosa Consegnare Ai Giovani Rispetto Al Loro Patrimonio Culturale Questo Ha Molto A Che Fare Con L'identità Col Ma D'altra Parte Un Educazione Che Avviene Attraverso La Formazione Scolastica E Universitaria Si Misura Molto Con Il Futuro Il Problema È Che Cosa Fornire Che Cosa Dare Ai Giovani Qual È L'attrezzatura Di Cui Hanno Bisogno Per Inserirsi Con Competenza E Per Rispondere Alle Esigenze Del Futuro Queste Sono Due Missioni Fondamentali Tradizionali E Sempre Attuali Solo Che È Successo Qualche Cosa Non Troppo Tempo Fa Per Cui Il Paesaggio Educativo Si È Completamente Rivoluzionato E Queste Tradizionali Missioni Sono State Messe In Crisi Sono State Messe In Crisi Per Tanti Fattori Che Sono Ben Identificabili In Quella Che Qualcuno Chiama La Società Postmoderna La Società Complessa C'è un poeta Arabo Che si chiama Steltier Che sintetizza Molto bene Questa Nuova Situazione Venutasi A Creare Quando Dice Noi Viviamo Nella Società Dell'incertezza Nella Quale L'unico Punto Fermo È Il Punto Interrogativo Allora Il Problema Diventa Cosa Vuol Dire Vivere Nella Società Del Punto Interrogativo Si è Interrotto Un rapporto Lineare Tra Compiti Della Scuola E Dell'Università E Futuro Il Compito Lineare Era Molto Semplice Ed Era Anche Molto Appoggiato Socialmente Il Compito Era Quello Di Formare I Ragazzi Perché Finito Il Percorso Scolastico Finito Il Percorso Universitario Si Potessero Inserire Bene Nel Mondo Del Lavoro Un Passaggio Di Stafetta Di Testimone Una Consegna Oggi Questo Non esiste Più Oggi Uno Si Prepara Non solo Perché Non esiste Più Il Lavoro Si potrebbe Anche dire Ma anche se Uno fosse Così Fortunato Da Trovarlo Quando Esce Dal Sistema Formativo Forse Quel Mestiere Quella Professione Per la Quale Ha investito Tanto Non esiste Più Certamente Se esiste Non è più Quella Di Prima Richiede Altre Cose Richiede Altri Apprendimenti C'è Una Frattura Che Un Tempo Non C'era Non Era Conosciuta In Questo Modo E Questo Provoca Una Crisi Una Ricerca Di Un Nuovo Senso A Cosa Serve Come Può Rispondere In Maniera Efficace Alla Domanda Sociale Alla Domanda Economica Come Può Spendere Il Suo Investimento In Termini Utili E Durevoli Rispetto A Questi Interrogativi A Livello Internazionale Si Sono Formulate Delle Risposte Che Stanno Riorientando Quelli Che Sono I Curricola Della Scuola E In Particolare Verso La Metà Degli Anni Novanta Sono Stati Determinanti Due Rapporti Molto Importanti Uno È Stato Prodotto All'interno Dell'Unione Europea 1995 Il Titolo Del Rapporto È Verso La Società Della Conoscenza E A cura Di Cresson E Fling Due Commissari Dell'Unione Europea Quasi Contemporaneamente All'interno Dell'UNESCO Un altro Rapporto Molto Importante 1996 Il Rapporto De Loro Titolo Tradotto In italiano Nell'educazione Un tesoro Titolo originario Era Nell'apprendimento Un tesoro Questi Due Rapporti Hanno Delle Parti Molto Comuni Ma Anche Delle Parti Nelle Quali C'è Da Riflettere Non Sono Sovrapponibili Entrambi Però Dicono Una Cosa Che È Finito Il Tempo Per La Scuola Di Caratterizzarsi Per L'attenzione All'insegnamento Lo Slogan Che Meglio Descrive Tutto Ciò È Questo Dalla Scuola Dell' Insegnamento Alla Scuola Dell'apprendimento Il Nuovo Paradigma Il Paradigma Che Emerge E Che Si Impone È Il Paradigma Dell' Apprendimento Io Penso Se Volessimo Guardare Tutta La Storia Della Scuola Della Didattica Questa È La Terza Rivoluzione Il Primo Paradigma In Assoluto Era Il Paradigma Del Maestro Del Maestro Dell' Autorità Che Richiedeva Ascolto Richiedeva Imitazione Richiedeva Sequela Lo strumento Didattico Per eccellenza È stato La Lezione L'esposizione Il libro Con la Modernità Cambia Il Paradigma E Il Paradigma Che Si Impone Quello Della Formazione E Quindi Della Scuola Come Organizzazione Come Istituzione La Didattica Come Mediazione Le Tecniche E Le Tecnologie Ora Siamo Di Fronte A Una Terza Rivoluzione Un Cambiamento Realmente Rivoluzionario Epocale L' Apprendimento Che cosa vuol dire dal punto di vista del riorientamento dei sistemi scolastici Vuol dire che quello che viene richiesto alla scuola per poter in qualche modo misurarsi con il futuro E di aiutare i giovani ad apprendere ad apprendere Insegnare ad apprendere Perché l'apprendimento sembrerebbe l'unico bene che non si usura L'unica competenza durevole sulla quale investire I due rapporti dicono entrambi questo Ma c'è una differenza importante che mette l'educazione al bivio ed è un bivio che ci riguarda A livello diciamo europeo soprattutto L'idea di apprendimento è molto legata a quella che è la domanda economica Tant'è che apprendere ad apprendere potrebbe poi proseguire col dire Apprendere ad apprendere ciò che ti viene richiesto Per poter rispondere efficacemente ad un'economia che non è più quella del Novecento Un'economia diversa, un'economia della conoscenza, un'economia che richiede altre cose Ed è l'economia che detta all'educazione i criteri Questo fa sì che per esempio nella rivisitazione dei curricula scolastici Ci sono delle nuove materie che prendono il sopravento O delle nuove discipline O che anche le stesse discipline tradizionali vengano rivisitate Secondo l'idea dell'utilità Una mia vicina di casa che insegna lettere in un istituto professionale Mi ha detto I ragazzi oggi a scuola mi hanno fatto una domanda Professoressa, a che serve la poesia? A niente, io ho risposto A meno che non vi prendiate cura della vostra anima Il rapporto dell'OR, dell'UNESCO Dice qualche cosa di più in termini di apprendimento Dice che la scuola deve sì insegnare ad apprendere Ma dice che l'apprendimento va visto secondo quattro connotazioni Apprendere ad apprendere, certamente Apprendere a fare, che sarebbe poi la stessa cosa dal punto di vista dell'essere competente E fin qui siamo sulla stessa linea, sulla stessa sintonia Con il libro bianco dell'Unione Europea Ma poi questo rapporto aggiunge La scuola deve insegnare a convivere La scuola deve insegnare a vivere Dà quindi all'idea, al concetto di apprendimento Una sostanza diversa Un allargamento di significato Un allargamento di senso Il costrutto che viene indicato alla scuola Come il costrutto che da prendere in considerazione Per realizzare la scuola dell'apprendimento È il cosiddetto costrutto della competenza Se qui ci sono degli insegnanti Avranno sentito questo richiamato molte volte Tutti gli orientamenti programmatici che noi abbiamo Dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola ai licei È organizzato secondo lo sviluppo delle competenze L'idea di competenze Vengono prese come riferimento le competenze chiave europee Una raccomandazione del 2008 E le discipline stesse sono finalizzate allo sviluppo delle competenze Ma anche questa idea di competenza cambia di connotazione A seconda che noi la collochiamo Nello sfondo del funzionalismo E cioè del rapporto Cresson O nello sfondo dell'antropocentrismo E cioè del rapporto dell'oro Nel primo caso La competenza sembra essere il fine della scuola Quello che è importante La competenza è un costrutto molto interessante Per dirla in termini semplici Come potrebbe essere raccontata una competenza La persona competente Si dice, dicono le ricerche Dicono gli studiosi E quella persona che sa fronteggiare efficacemente dei problemi complessi Nel fronteggiare questi problemi La persona competente mette in moto tutte le proprie risorse Le proprie conoscenze Le proprie abilità Le proprie strategie Ma anche la propria volontà Le proprie emozioni La capacità di gestirle Insomma è una mobilizzazione delle risorse della persona E da questo punto di vista è interessante La persona competente È la persona che sa fronteggiare problemi Quindi è la persona di cui abbiamo bisogno In una società del cambiamento Che ci presenterà continuamente problemi E questo è importante È difficile dire che non sia una prospettiva interessante Ed è anche difficile non vedere come questa prospettiva cambia la didattica E questo presenta poi problemi per gli insegnanti Ma è questo il cambiamento Che orienta anche il cambiamento della didattica Però È questo il fine della scuola? Lo sviluppo delle competenze è a questo modo Un preside americano Scampato ad Auschwitz E quindi che aveva vissuto questa tremenda esperienza Arrivato poi in America E ogni anno scolastico Ad ogni inaugurazione di anno scolastico In maniera quasi ossessiva Ma lo si può capire Si rivolgeva ai suoi insegnanti Scriveva una lettera O riproponeva una lettera Che diceva io Adesso non l'ho qui Ma presso a poco Diceva così Raccontava la sua esperienza Diceva io Sono stato in questo campo di sterminio Sono riuscito a sopravvivere E nella mia difficile esperienza Ho conosciuto persone molto competenti Ho conosciuto medici provetti Che davano la morte Ho conosciuto infermieri Assolutamente preparati Che facevano iniezioni mortali Ho conosciuto architetti Che avevano organizzato razionalmente lo spazio Difido quindi dell'educazione Difido quindi dell'educazione E a cosa serve La matematica La letteratura La storia La geografia Se questo non serve A rendere la persona Più umana Allora in questa Anche drammatica citazione Noi abbiamo Qualche cosa che rimanda La competenza Ma dà anche un orizzonte Alla competenza Che non dice Che la competenza È una brutta cosa Anzi è una prospettiva È la prospettiva Ma non è l'ultima Delle prospettive Se manca Un fine Alla competenza È stato citato Da Monsignor Zanni Edgar Morenghi Suo ultimo libro È molto bello Quello In cui parla Appunto Dell'uomo Dell'educazione Al servizio dell'uomo È l'importanza Del pensiero In questo libro Questo libro È molto dedicato Al pensiero Edgar Morenghi Viene citato Ed è un libro Che secondo me Va un po' oltre Quello più famoso Che lo ha reso più famoso Che il libro Che si intitola La mente ben fatta Perché è interessante Questa Anche questa evoluzione Di Morenghi In questo libro La mente ben fatta Ma chi non desidera Che una scuola Formi Menti ben fatte Morenghi Riprendendo un antico detto Dice È meglio Una mente ben fatta Che una mente ben piena La scuola Della Della esposizione Della trasmissione Era Del nozionismo Era della mente ben piena No È meglio Una mente ben fatta Ma appunto Abbiamo visto Che le menti ben fatte Possono fare cose Malfatte Allora Bisogna andare Oltre la mente ben fatta In una prospettiva Che metta La competenza Al servizio Di qualcos'altro E che cos'è La prospettiva Oltre la quale La competenza Va finalizzata Il servizio Alla comunità Allora Da questo punto di vista È interessante Una prospettiva Pedagogica Che è molto presente Peraltro Nel documento Che la congregazione Per l'educazione Cattolica Ha diffuso Perché ne discutano Le università E le scuole cattoliche Che è la prospettiva Che vede un legame Stretto Tra l'apprendimento E il servizio C'è uno slogan Molto bello Che dice Apprendere serve E questa è l'utilità Servire insegna Mettere a disposizione L'apprendimento Ti porta a ritornare Sull'apprendimento stesso Ti porta a ritornare Sul senso Era molto interessante Però ascoltare Cosa dicono i ragazzi Perché i ragazzi Non si Dedicano Alla politica Che sarebbe La cosa più bella Più interessante E più nobile Che dà senso Alla competenza Se presa Nel suo significato vero Di amore Per la città Che cosa manca Nella nostra educazione Se questi sono I risultati Sono risultati Che devono Interrogarci Che devono Farci pensare C'è un legame Molto stretto Tra il senso Della scuola E la restituzione sociale Ora Questi sono interrogativi Sul senso Della scuola E su cosa nutriamo Che cosa stiamo Dando ai nostri ragazzi Quali sono i sogni Che noi abbiamo Per loro Che idea di successo Stiamo proponendo A questi ragazzi Avete visto La prima lista Che cosa vuol dire Essere oggi Persone di successo L'educazione Si misura con questo Questa è la grande sfida Dell'educazione Diceva Brunner L'educazione È pericolosa Perché introduce Il senso Della possibilità Il senso Della possibilità Per Brunner La possibilità Vuol dire il futuro La possibilità Vuol dire Il futuro Quello che ancora Non c'è Che noi non sappiamo Come sarà Ma che sappiamo Che potrebbe essere In un certo modo Se ci impegniamo Quindi la possibilità È anche la nostra Responsabilità Allora io credo Che Certo L'educazione È sfidata L'apprendimento È un grande paradigma Va preso in considerazione Cercando di mantenere Però un equilibrio Tra il passato Ciò che dobbiamo Consegnare di significativo E il futuro L'incerto Ciò che dobbiamo Aiutare Ad affrontare I ragazzi Ma al tempo stesso Dobbiamo dare Ai nostri studenti Un orientamento Una visione Una prospettiva Di senso E forse questo Darà loro Ancora una motivazione In più Per essere anche Bravi studenti Studenti di successo Ma per dare Alla parola Successo E successo formativo Un significato Per la loro vita E non Per la loro carriera Grazie Abbiamo adesso Un compito Molto piacevole Vedo che I studenti Le studentesse Si stanno Preparando a venire A offrire Il nostro omaggio Ai tre Professori Ai tre Mentre offrono L'omaggio Prima che Mentre offrono L'omaggio Io volevo Cogliere ancora Due Piccole cose Uno Portare i saluti Perché prima Mi sono dimenticato Di Monsignor Meini Il vescovo di Fiesole Che È impegnato Nella visita pastorale Ma Non solo Mi ha mandato Un messaggio Ma Celebrando la messa Qui mercoledì sera È venuto appositamente Mi ha detto Sono veramente dispiaciuto Portami i saluti Lui adesso È anche vicepresidente Della conferenza Episcopale italiana E si rallegrava Molto per il tema Per le persone Che venivano Eccetera Quindi Era realmente dispiaciuto Seconda cosa Io prendo Uno spunto Da questa bellissima serata Che mi pare Molto importante Bisognerebbe Che tutti Lo sentissero Bisognerebbe Che fosse diffusa Dovrebbero sentirlo Tutti Perché E Prendo Per Una cosa per Sofia E una cosa per lo piano Una cosa per Sofia E quella che mi diceva Tivierge Proprio entrando Dice Oggi È il giorno In cui Sofia Entra a far parte Del Della federazione Internazionale Dell'università cattolica Io lo prendo Sul serio E lo facciamo Non lo eravamo ancora Perché formalmente Noi siamo Un piccolo istituto Universitario E Facciamo parte Di un'altra Diciamo Non siamo Un'università cattolica In senso stretto Ma Come Possiamo anche Le eclesiastiche Allora con questa benedizione Ci siamo Quindi Segniamo nel libro d'oro Della nostra storia Questa Data Del 15 maggio Per questa cosa Seconda cosa Avendo quello che diceva Monsignor Zani All'inizio Questa intuizione Di Chiara 50 anni fa 50 anni Gravissimo Educazione 50 anni Loppiano Città scuola Ecco E Il 30 maggio Faremo Una giornata Di riflessione Di studio Proprio Sull'idea E la profezia Che c'era In questa intuizione Di Fare una città scuola Certamente Certamente Possiamo avere Da questo Anche da questo Anniversario Del 50esimo Del concilio Una suggestione Una provocazione Forte Penso che Anche noi Dobbiamo Interrogarci Profondamente Come tutte le nostre Attività Nella loro Specificità Nella loro interazione Obbediscono E servono Questa intuizione Perché Un esame Di coscienza O come dice Papa Francesco Una conversione Profonda Di metodi Di anima Un rilancio Penso proprio Che ci stia bene E allora vorrei Ringraziare anche Questa serata E far mia Questa suggestione Che ci tocca a tutti Non solo Istituto Sofia Ma anche Come sono qui presenti Tanti rappresentanti Di Lopiano Grazie di cuore Ecco Allora Sono loro che non conoscono Voi sapete tutti Cosa gli offriamo L'omaggio di Sofia Però Ci lo facciamo vedere Ecco Allora È il simbolo Di Sofia Diciamo Sono tre Molto legati Dunque Ecco Piero Aggiunge Che camminano Aperti Mi sa che c'è qualcosa Di epilagogico Dentro Benissimo Per chi non lo sapesse È proprio fatto Da uno studente Egiziano Di Sofia Che ha proprio Inventato Allora Facciamo L'ultimo pezzo Di musica Sempre da Sandro Si chiama Zelinda Stim Cioè Tema d'amore Di una favola Cioè Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.